Sony è diventato uno dei nomi più apprezzati nel mercato della fotografia digitale. Con l'acquisizione di Minolta, l'azienda è tornata anche ad occuparsi del mondo della fotografia reflex, ovviamente in chiave digitale. La DSLR A100, meglio nota a tutti come Alpha 100, passerà alla storia come la prima reflex digitale marcata Sony, segnando un ingresso in pompa magna in questo settore in rapida espansione. I più esperti ritroveranno in questa fotocamera buona parte della tradizione Minolta, con l'aggiunta delle prime innovazioni risultanti dal lavoro degli ingegneri Sony. In dotazione con la fotocamera troviamo un obiettivo 18-70, ma l'attacco Minolta permette di utilizzare tutto il parco di obiettivi 35 mm già disponibile che andrà a arricchirsi molto rapidamente di nuove e interessanti proposte frutto della collaborazione fra Sony e Carl Zeiss nel settore delle macchine digitali. La Sony Alpha è comoda, robusta, semplice da utilizzare e ricca di funzioni interessanti. Segnaliamo in particolare la presenza dello stabilizzatore incorporato che permette di utilizzare obiettivi tradizionali, in particolare lo zoom, recuperando almeno un paio di stop nello scatto in condizioni di luminosità non ottimale e per produrre in questo modo immagini nitide e ben definite anche ad elevati rapporti di ingrandimento. Potete trovare tutti i dettagli nel nostro test ed una completa descrizione delle caratteristiche dell'A100 nel numero 34 di Tutto Digitale. Grazie. 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 Grazie.